Che il rosso sia il colore per antonomasia delle feste è cosa risaputa, ma vestiti e decorazioni stavolta c'entrano poco. Il rosso di quest'anno è obbligato da un decreto che riporta il paese da oggi nella fascia di colore con misure più stringenti. Così fino all'epifania, a parte la parentesi del solo 4 gennaio in zona arancione. E allora sarà cinischia di nuovo abbassate per i negozi, a parte i parrucchieri. Grazie. Grazie.